E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi come potete vedere siamo in un gioco completamente diverso ma che mi sono installato pochi giorni fa Sicuramente l'avrete visto un po' in giro così e volevo farci un video perché praticamente volevo dire la mia riguardo questo gioco un po' particolare Particolare perché? Perché praticamente per chi ha potuto vedere qualche video o letto qualcosa Questo gioco praticamente viene classificato come un gioco praticamente uguale a Overwatch e in alcuni casi si dice anche migliorato E quindi ovviamente noi andiamo subito a farci una bella partita così possiamo riscontrare tutte queste cose che si dicono nella realtà Quando andate a cliccare qua su play praticamente vi compaiono queste quattro schede in cui praticamente casual andate a gioinare contro altre persone online Però questo non succede fino a che non raggiungete il livello 5 almeno Fino al livello 5 giocherete un dei bot con delle difficoltà gradualmente più alte Poi vabbè il competitive andate a cliccare e ci vuole almeno il livello 12 il vostro champion oppure un master livello 4 vaffanculo Il training è nemmeno fatto vaffanculo e il custom vabbè giocate voi contro dei bot per provare le spell o roba del genere Andiamo a fare semplicemente una partita normale e avete queste due modalità in cui questa praticamente dovete trasportare un carretto da una parte all'altra E qua dovete conquistare dei punti se non sbaglio e noi facciamo proprio questa Adesso aspettiamo e ci vediamo in partita Ovviamente per sbloccare i champion dovete diciamo andare avanti con il gioco oppure compararle direttamente Un po' come succede in quasi tutti i giochi di questo tipo E noi il caso scegliamo? Scegliamo questo Che l'ultima volta che l'ho usato mi sembra che era simpatico e assomiglia appunto a un personaggio di Overwatch adesso non ricordo il nome Che praticamente lo vedrete adesso Una volta entrati in partita praticamente avrete Questo però si può classificare prima che entriate in partita Si possono classificare i personaggi con delle carte che troverete praticamente nei forzieri Che troverete alla loro volta alla fine ogni partita come bonus quando fate un livello o roba del genere Oppure li potete comprare In cui praticamente potete andare a personalizzare il vostro personaggio Vedi ogni classe, ogni carta ha un significato diverso Allora appena entrate vi fa comprare gli item che sarebbero questi Vabbè io compro all'inizio sempre questo perché praticamente mi ha reload speed che sarebbe la velocità di ricarica Vi mette in mount subito appena arrivate Così che potete dirigervi subito all'obiettivo come potete vedere là già il capture quindi dobbiamo andare là Oh cazzo porco Allora noi abbiamo diverse abilità Allora se noi premiamo F ci fa praticamente questo E noi voliamo verso l'alto Con il tasto destro del mouse sarebbe essere una spella di poche stun Quella palla lì Invece con la Q Praticamente ci spara tutti i razzi che abbiamo in una volta sola così Pam 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 Questo è il cecchino che è totalmente sbroccato Vaffanculo a lui La cam credo che ve la tolgo perché mi copre la vita Porca puttana Non so come mi sono salvato Però questo personaggio mi piace un sacco perché tu prendi e ti metti qua in alto e ti metti a spammare i tuoi missiletti Ho sbagliato Vaffanculo a me Cazzo Comunque la cam me la tolgo che Mi copre la vita Dopo semmai la sposto sul prossimo video Vi dico cioè se ci giocate Avete per caso fatto una partita anche solo una overwatch Vi accorciate che Io la prima volta ci ho giocato mi sono messo a ridere perché dico cioè no non è possibile Come fa ancora a funzionare questo gioco e non aver preso non so qualche copyright strike Qualche roba del genere Questo aspettate Gli facciamo una sorpresina Non l'ha fatta mai in lui vaffanculo Cazzo porco Ogni volta che rientrate in base Premendo io quei morite potete ricomprare gli item Però ci vogliono i crediti che si fanno ammazzando gli altri Oppure prendendo gli obiettivi Quindi praticamente qui il nostro scopo è quello di evitare che loro ci puscino Guarda guardate quanti cazzo anni fa quella merda di cecchino Vaffanculo a lui La nostra forza però è stare in alto Io riesco a rimanere in alto Tenendo premuto la varia spazio adrigge Porco i dinci porco Ah la mia ultimate Ovviamente si sbloccano le ultimate esattamente come overwatch Che a un certo punto sblocchi la tua ultimate Porco porco Questo è l'anzo Questo sarebbe anzo di overwatch È uguale tranne che non c'ha l'ulti uguale Ma se no per il resto praticamente è sficcicata Ci prendiamo questo Adesso vi faccio vedere ultimate Guardate eh Praticamente faccio questo Se non muoio prima Porco Sono un po' subito È lento come la morte Dio castarla Vaffanculo E adesso invece tocca a noi praticamente attaccare E portare avanti quel carretto Ah per fortuna l'ultimate non ce l'ha tolta Ce l'ha semplicemente refreshata Quello che praticamente è Reinhardt questo qua È uguale Solo che tipo si chiama Non mi ricordo ma non lo come O imbecille Forse non hai capito il concetto Io ti spacco Questo è l'ultimate Niente praticamente Prende uno e lo one shotta Fagile proprio No volevo passare sopra Nooo Che cosa faccio No quella stronza di merda Stronza Muori Le metodiche di gioco La grafica Ste cose qua Cioè è tutto uguale Proprio Ma chi cazzo era? Ecco questo è il cecchino di merda Ghinessa Che è totalmente sbroccato Guardate quanti anni fa Ma lo prendo io il cecchino sul prossimo round E faccio vedere quanto cazzo è forte Bam Pesso di merda Bam Questa è una palletta che non so che cazzo fa Porco dinci Fa un knockback gigantesco Adesso gli sparo tutti i razzi in bocca E si di merda Oh 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 Fai bravo Fai bravo Questo gli facciamo scoppiare tutto Mori Voglio ultare sulla faccia di qualcuno Aspetta Provo a fare una sorpresina Orco dinci No son morto son morto son morto son morto son morto Non è vero Cretina di merda Vaffanculo a te Pezzo di stronzo Pezzo di stronzo Fernando del cazzo Abbiamo perso pure questa Siamo fortissimi Ma vede che sto personaggio Non l'ho preso praticamente mai Però non è che faccia tutti questi grossi danni Ma che cazzo è Quella merda di cecchino Vedi sono arrivato morto Sapete quella cosa che cambia Che sono primo in tutto io Che ho fatto schifo Pensate i miei alleati quando fanno cacare Cioè dai Sono primo io in danni Adesso vi faccio vedere io come Si usa il cecchino Questi pagliacci Ok vi ho spostato la camminando Così vedete meglio Ok eccoci Io lo rispivo praticamente In breve il spell Allora Funziona praticamente uguale a videomaker Per chi lo conoscesse Però Abbiamo la Q Praticamente piazza due trappole Le tira La F che praticamente È un teletrasporto A breve distanza È un po' lentino Però alla fine ci sta L'aldi mette praticamente Ci permette di crittare Ogni colpo che facciamo Nei prossimi secondi Allora Se ne becco uno Vi faccio vedere quanti danni fa Ecco 1300 quando è tutto caricato E voi mettete dietro praticamente Potete shottare tutti Se in realtà si fa i cazzi suoi tipo Ecco queste sono le trappoline Vaffanculo Levati Mi sono incrastato da solo Questo è il TP Dai qualcuno che mette fuori la sua destolina di cazzo Lo scudo bisogna toglierlo Stronzo Dai Provaci Nol Uomo combo Ma l'albero è comico Perché è un albero che lancia accette Questo è rimasto FK Mollato Voi praticamente se beccate due colpi caricati Avete fatto una kill facile Il problema ovviamente è che essendo un gioco abbastanza frenetico È un po' difficile beccarli però Venite premiati molto facili perché Li shottate Funziona uguale quindi Ha la seconda arma che è una Ah esce fuori Pip Questa si chiama veramente Pip Comunque Nome pietoso Policiato Allora adesso spariamo l'ultimo Vi faccio vedere praticamente Vedete Critta sempre Ovviamente se voi spammate Fate meno danni In qua vieni Merdina Am 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 Li stiamo sfondando male Stiamo camperando all'ingresso In volo Affanculo A te Topo di merda Questo è il prova il backdoor da dietro addirittura Mori il tronzo Sono un po' scarsi questi c'è da dire però eh Molto scarsetti Stiamo proprio camperando all'ingresso Mi fare spanare in base ogni volta dovete ritornare Come overwatch Affanculo Che cazzo di teleport Sì ho liciato Per questa Spariamo un paio di trappoline lì Cazzo che masche Oddio 19 vita Oddio 19 vita Allora vita si ricarica da solo Sono morto Ovviamente Si cazzo porco Si sono svegliati a caso Ci stanno arando adesso Non so perché Eh Moi mi ho spaccato la faccia Adesso non mi muovete da qui Dai che ne becco qualcuno con l'ulti Affanculo Ho sprecato l'ulti Sono imbecille Uh Direi quello era classificato così come un quickshoot Ecco Codinci porco porco Codinci Sono un coglione Sono un coglione Bam Bam Trappolina Ah lì potevo ammazzarlo Eh pip Che dici pip Nesse Do you Il dragon's fury Tatatatatatatatatatata Quanto cazzo vai Quello scudo finisce a un certo punto Questo dovrebbe essere un healer Che viene sempre in avanti Come se fosse Non lo so Un dunk Cazzutissimo Invece È un healer che esplode Capitano davanti Dai 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 Fa il passettino avanti Boom Abbiamo vinto Porco d'inci No No Non sare Easy GG Ragazzi per qualche ignoto motivo Il mio gioco subito dopo è crashato Così a caso Quindi io vi saluto E ci vediamo nel prossimo video come sempre Grazie per la visualizzazione Mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Ciao a tutti ragazzi